usa questo per diventare più forte su clash mini ciao ragazzi io sono vapor e come al solito torniamo a gamba tesa su questo grande titolo su questo grande gioco che è clash mini oggi andiamo a vedere nel dettaglio che cosa serve per diventare forti su questo gioco qual è la tecnica migliore qual è l'azione migliore che ci permette di diventare effettivamente forti su questo game se vuoi saperne di più commenta qua sotto e mi raccomando clicca qua in alto nelle schede troverai la playlist monopoly go ita in questo caso clash mini ita perché saranno tutti i video che ho fatto io di clash mini su questo canale che sono già abbastanza ti ricordo inoltre di iscriverti al canale che siamo in direzione 22k seguimi su tiktok instagram e twitch per rimanere aggiornato al top sempre qua sotto tutti i link che ti servono questo è il profilo avete visto nell'ultimo episodio ho fatto vedere un deck che ritengo molto forte del nuovo aggiornamento ed è questo qua quello che vedete esattamente qua un deck veramente devastante e qua mi chiedono naturalmente di entrare di fare cose vi ricordo i mini del vap se qualcuno di voi ha coppe per entrare entri ci divertiamo giochiamo scaliamo facciamo le nostre cosettine io ragazzi sono sempre abbastanza attivo riesco a macinare pian pianino un po di livelli di esperienza un po di cose un po di di là oggi però andiamo a vedere il trucco per diventare effettivamente forti ossia questo oggettino qua si chiama puzzle e serve sostanzialmente un deck nel quale andiamo a combattere contro letteralmente dei bot andando a combattere contro dei bot ci verranno accreditati delle ricompense vi farò vedere poi naturalmente a che cosa si rifanno queste ricompense che cosa servono e andiamo naturalmente a commentare tutto assieme nel dettaglio in questo caso l'obiettivo andrà a vincere contro di lui non dovrebbe essere così impossibile sono tutte delle carte abbastanza scarse livello 1 livello 2 massimo e li stiamo abbastanza annichilendo in questo caso riusciamo a portarci a casa la easy win quindi round 1 nettamente vinto c'è poi il round 2 nel quale ci vengono dati 6 di elisir in più quindi abbiamo sicuramente molta molta più intelligenza no non dovevo fare esattamente quello devo far l'altra vogliamo se ma porca miseria non sono riuscito ad inserire quella che volevo io qui metto l'eeling ranger e direi che ci siamo questa è la disposizione vi ricordo che i mini devono rimanere bloccati non possono essere spostati quindi se qualcuno di voi ha intenzione di spostarli ragazzi non potete spostarli piccolo piccolo stonk spov qua naturalmente riusciamo ad aumentare nettamente il nostro la nostra cura perché quando lui dà la testata si stunna automaticamente ma poi con l'abilità della cura riesce a recuperare quella piccola vita in quel metodo da questo è sicuramente un oggetto molto interessante un oggetto che ci viene messo a disposizione da parte del team di supercell e io sinceramente lo apprezzo molto perché dà veramente tanto tanto aiuto ci serve per masterizzare alcune abilità alcune tecniche da andare ad utilizzare col nostro deck in particolare e quindi non lo so lo apprezzo effettivamente molto qua complimenti comunque il nostro cavaliere riesce a performare alla grandissima il mago di ghiaccio anche tiene molto bene e in generale abbiamo una disposizione all'interno di questa mappa devastante nella quale l'avversario come vedete può fare ma fino ad un certo punto ci portiamo a casa tutto il pensabile e l'intera ricompensa l'intera ricompensa che sostiste nell'andare a sbloccare questo sia 50 monetozze e due shard piccolini niente di così eclatante sono finito nuovamente in quella sbagliara no ragazzi cioè no no devo rifarlo veramente ah no l'ho già ho già fatto le tre stelle le ho le ho le ho già fatte le tre stelle quindi sono sono già a posto in realtà no perché sono entrato per sbaglio e mi ha mi ha fregazzato non mi doveva fregazzare continuiamo con hail to the king quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se sapevate l'esistenza di questo percorso segreto perché effettivamente ho notato che andando ad applicarci in maniera abbastanza seria all'interno di questo corso che ci viene dato riesco molto di più poi nelle partite multigiocatore a performare meglio non lo so forse è una mia sensazione però io sinceramente mi trovo meglio così qua comunque grandissima botta quasi da parte del tipo la regina degli arcieri fa il possibile buono perché è assolutamente buono e riusciamo a portarci a casa al primo round successivamente secondo round vengono accreditati 6 di elisir a noi vengono accreditati 6 di elisir all'avversario quindi sicuramente una proporzione normale e direi che la guardia viene messa nuovamente lì viene potenziato lui giriamo e direi che può essere potenziato tranquillamente anzi no può essere inserito tranquillamente anche il mago di ghiaccio per avere una visione completa del tutto capito molto bene molto bene assurdamente yes la regina degli arcieri una volta che si carica l'abilità 3 2 1 parte a raffica riesce a stendere veramente tanto 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 gli avversari questo sicuramente è un gran vantaggio da parte nostra e ci portiamo a casa il secondo round manca soltanto il numero 3 per finire definitivamente il tutto altri 6 di elisir che ci vengono dati grazie 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 ok direi potenziamo assolutamente la guardia potenziamo al numero 2 lui potenziamo al numero 3 lui e sinceramente farei un potenziamento del 30% dello slow al mago di ghiaccio per avere una visione completa secondo me molto dettagliata del tutto questo è il round numero 3 anche di questa seconda task guardiamo se riusciamo a portarci la casa in teoria il gran cavaliere deve essere devastante il gigante quello lì davanti è veramente veramente strong e quindi anche di fronte ad un re barbaro con la furia e tutto quello che ci può avere un re barbaro riusciamo a portarci a casa perlomeno la victory gg applausone al vapor che si porta a casa 6 vittorie di fila mai aver perso e anche qui possiamo sbloccare i rewards della intro quindi esattamente questa roba clamorosamente bella e direi che ci siamo uno poi può andare avanti e se vedete ci sono varie difficoltà beginner e poi c'è il chapter secondario e l'altro chapter ancora insomma sicuramente da testare e da fare poi pian piano attualmente la mia priorità non è quella però comunque se qualcuno dovesse riuscire a farlo sarei sicuramente contenta o degli hero shards assolutamente sì saranno poi da potenziare col mini pass cioè da trovare col mini pass questi disgraziati qua vediamo vediamo nel senso che col mini pass combinazione non riesco neanche andare troppo avanti perché adesso per andare avanti nel mini pass bisogna andare a sbloccare ste missioni stagionali abbastanza infamuzze ma non importa noi le andremo a sbloccare nel chill come al solito naturalmente andando a vedere le mie caratteristiche nel cammino di trofei fatta la prossima vittoria dovrei andare a finire sul master quindi sarei molto contento in caso di master e qua in realtà siamo abbastanza tutti sullo stesso livello il video di oggi termina qua spero che vi siete divertiti spero che vi sia piaciuto sapete che a me flash mini piace un botto diverte lo trovo fresco è un gran bel gioco per quanto mi riguarda un ottimo sostituto al brawl stars l'ultimo gioco lanciato e quindi secondo me potrebbe esserci molto 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 potenziale e a fine anno non escludo un arrivo del gioco a livello globale ve l'ho detto qua nella scheda cliccabile mi raccomando andate a recuperare i video noi ci vediamo domani all'ora 14 con un nuovo video e quindi